A Scicli, Contrada, Torre Palone, a Ragusa, in via delle Americhe, chilometro 17 e 5. TR Trattino, per info 0932 84 11 71 Radio Studio Plus, vi invita a Sciacca, il centro storico, le mure di Vega, la marineria, i vicoli arabi, la spiaggia di Sovareto. Il nome di Sciacca deriva probabilmente dalla parola araba Siac, che tradotta significa bagno, ed è pertanto ricollegabile ai fenomeni termali. Sciacca, semplicemente unica. Radio Studio Plus è a Sciacca, sulle frequenze di TRS 101 e 600 MHz. Eccoci di nuovo su Relight My Fire per questa seconda parte veramente speciale. Io ho il grandissimo onore e piacere di presentare quello che per me è stato un maestro nell'arte di proporre musica e di fare musica. Sto parlando di Checco Farias, dei Gestofunk. Ciao Checco, come stai? Ciao Roby, ciao Marco, molto bene, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao Checco, benvenuto, un grande onore averti qui a Relight My Fire.